C'è raggiunto anche il portiere della team Moscheri Leonardo Ofria, innanzitutto ti salutiamo Buonasera Allora, oggi il risultato se è stato solo di 2-1 è stato anche merito tuo? Merito mio, anche della squadra abbiamo giocato meglio rispetto alle scorse volte, è stato più grind, più determinazione, sono contento, non conto alla prestazione del single ma della squadra in generale Adesso secondo te la team Moscheri in queste due partite cosa può fare? Noi come tutte le partite cerchiamo di vincere, poi il risultato che viene ce lo prendiamo, proprio andiamo sempre alla vittoria Sei convinto che la prossima partita con la Criapogola sia la partita decisiva per voi? Se giochiamo così ce la possiamo fare, alla fine sono tutti come noi, non c'è nessuno più forte o meno forte, questo è che penso Benissimo, allora anche in bocca al lupo a Leonardo, Daniele, oggi prima presenza? Prima presenza per te oggi con i team Moscheri, che sensazione hai provato a tornare all'UniFriends? Sicuramente è una bella sensazione, di questo torneo io sono già un veterano perché comunque ho cominciato sempre, sono partito dall'inizio da questo torneo Devo ringraziare Cristian che mi ha cercato e mi ha voluto in questa squadra Il primo gol in maglia Moscheri a chi lo dedichi? A Cristian che mi ha portato in questa squadra e a Daniele che anche lui ha partecipato in questa trattativa Ma da dove è nata appunto la trattativa? Da cosa è scaturita? Cioè il rapporto di amicizia tra te e Cristian? Diciamo che con Cristian ci conosciamo dal primo torneo, abbiamo giocato sempre contro, quest'anno io non ho iscritto alla squadra e quindi sapevo che ero libero Ho avuto un infortunio, mi sono ripreso e quando mi sono ripreso lui mi ha cercato Poi comunque nella squadra ci sono tanti ragazzi che giocano con me a 11 e quindi diciamo che non è stato solo lui a volermi ma un po' tutta la squadra Ti è dispiaciuto non iscrivere quest'anno alla squadra dei Gunners? Ma diciamo di sì, però è anche vero che essendo infortunato all'inizio e quindi non potendo essere presente fisicamente non potevo iscrivere la squadra Poi comunque ci sono stati tanti altri motivi che non sto qui a raccontare perché se no facciamo notte Benissimo, allora in bocca al lupo a Daniele Sava, ok allora spostiamoci, ci raggiunge Gaetano Scarcella Il jolly del team Moshiri se così possiamo definirti, ti possiamo dire che oggi è stata una prestazione importante per te Perché c'è stata la conclusione su Matteo Figare che hai respinto alla grande e hai salvato lì il risultato? Sì, in quel momento l'unica cosa che ho pensato è andare addosso al tiro e salvare il gol L'unica cosa che mi è venuta in mente Gaetano, il tuo contributo alla team Moshiri quest'anno qual è? Ma io sono qui disposto a giocare in qualsiasi ruolo, il capitano lo sa, vengo sempre, io sono un rincalzo come tu già pensai, sono disposto a tutto Sei dispiaciuto per questi problemi che sono successi all'interno della squadra? Guarda, a me non mi interessa nulla perché con questa gente non voglio avere nulla a che fare Anzi è stato meglio perché certa gente che se n'è andata a me non mi andava giù Anzi ce l'avevano anche contro con me, perciò non mi interessa Benissimo, allora ringraziamo anche Gaetano, in bocca al lupo alla team Moshiri e lì nello studio Grazie